Dal legamento finta di cavazione circolata. Non c'è il senso di niente. Si può fare anche calatrici. C'è il senso e il senso. E vedete, se è il senso, in una barata semplice e la taglia. In guardia. Da lì c'è la tua porta, la barata semplice e la taglia. Io faccio il tuo esempio. Io faccio uno, due. E' una finta dritta e circolata. Uno, due. Ok. E' un'altra persona la segreta. Può fare la sua scelta. Vi ho detto che è un altro punto. Vogliamo entrare in tempo? Facciamo la pratica che era fatta in tempo. Sulla taglia attraversaria. Io sono attraversaria. Con le scelte di fermi. E devi vedere la parte di fermi. Adesso c'è uno scelte. Adesso io devo cercare il fermo. Allora, porto l'altro a quest'altro. Mi sono accaminando. Se la mia ricerca è il fermo, mi segui la scelte di fermi. Questa è una parata semplice. Questa è una luce. Questa è una luce. Se la luce non è luce. Se la luce non è luce. Se la luce non è luce. Si tratta di una portata. Questa è una luce. Se la luce non è la bianca. Noi. Se la luce non ha luce. Grazie.